Abbiamo dato il via da pochi giorni al potenziamento della scerbatura in città grazie ad alcune modifiche fatte di concerto con i nostri uffici dell'ambiente rispetto al contratto in vigore. Abbiamo potuto fare degli spostamenti all'interno delle stesse voci contrattuali che ci hanno consentito di liberare delle somme per potenziare le squadre di scerbatura che sono passate da una a tre. Saranno tre squadre fisse fino alla fine dell'anno, quindi un periodo molto lungo che ci consentirà di intervenire su tutto il territorio, quindi non solo centro storico ma quartieri popolari ai quali teniamo molto perché è fondamentale che anche queste zone siano in ordine. Oltre a questo abbiamo potuto incrementare anche le squadre che si occupano del ritiro dei cosiddetti abbandoni, purtroppo continua questa triste moda che pochi cittadini continuano a portare avanti abbandonando rifiuti in strada nonostante la raccolta differenziata funzioni perfettamente. Ricordo che questi sono costi aggiuntivi importanti che poi pagano tutti, pagano tutti i trapanesi e ormai siamo arrivati a un costo di circa due milioni di euro in merito a questo servizio abbandoni. In questo momento le squadre si trovano a Milo, uno dei quartieri per antonomasia popolari della nostra città, entrando dalla via Rodolico sono cominciate le operazioni di pulizia e ripristino di tutto il territorio. Chiaramente siamo molto concentrati in questo momento perché siamo prossimi al periodo clou della settimana santa in città e quindi le squadre si stanno anche occupando di far sì che il territorio, in particolar modo la zona dove passano sia i misteri, che le due processioni dei giorni precedenti siano in perfetto ordine anche perché ci saranno tanti turisti in città e come sempre vogliamo fare trovare una città che sia il più possibile pulita ed in ordine come facciamo tutto l'anno perché non è solo il turista che vuole la città pulita ma in primis i nostri concittadini trapanesi. Dunque questa è una novità importante che ci consentirà di tenere il territorio molto più in ordine rispetto al passato e nonostante siano tanti i problemi continua l'impegno da parte della nostra amministrazione.